Promessa mantenuta, allora ieri con le bottiglie d'acqua dell'acqua di mare di Mare Nostrum, adesso i risultati delle analisi. I risultati in questo momento sono quelli dei prelievi alla quarta spiaggia che ho fatto su richiesta di bagnanti, su pressante richiesta che mi hanno chiamato a casa addirittura, il 26 agosto 2011. E per quanto riguarda la quarta spiaggia il 26 agosto 2011 non vi era nessun inquinamento. La schiumetta che si vedeva era una schiumetta naturale, questo è appunto il referto del laboratorio di analisi. Voglio però aggiungere che è un laboratorio estremamente serio, perché sinora non l'avevo pubblicizzato, ma lo scorso luglio assieme a Goletta Verde, anche per testare la professionalità di questo laboratorio, io avevo portato gli stessi cambioni raccolti a Mare Nostrum anche a questo laboratorio. E abbiamo visto che a luglio avevamo a Mare Nostrum questi scarichi fognari, che ritengo siano scarichi fognari abusivi. Adesso, nei prossimi giorni, credo lunedì prossimo, il laboratorio mi darà gli esami che abbiamo richiesto con i prelievi di sabato passato, sempre a Mare Nostrum. Io voglio avere chiaro questo quadro perché intendo risolvere il problema. Ho già focalizzato qual è la questione e lo ribadisco, la questione è quella di scarichi abusivi che avvengono attraverso le acque bianche. Marco Zambuto ha sbagliato a disattendere la richiesta di Camillo Bosio e mia di tappare durante il periodo estivo quegli scarichi. Se così fosse stato, il mare, che comunque è stato abbastanza pulito, lo sarebbe stato al 100% senza questi problemi. Oggi intervenite anche su delle iniziative dell'ex manager dell'azienda sanitaria di Agrigento, Olivieri. Nel merito di che? Credo che alla cittadinanza interessi molto sapere che invece di risolvere i problemi, ad esempio, degli anziani che hanno bisogno delle bombole di ossigeno, e Olivieri lì ha creato un vero e proprio disastro, prima gli anziani si recavano nelle farmacie che sono diffuse nel territorio e agevolmente avevano la prestazione della bombola di ossigeno, adesso devono imbarcarsi in un iter burocratico tremendo per poi finire in mano ad un monopolista delle forniture. Olivieri, invece di risolvere questi problemi, invece di allocare la risonanza magnetica e ci sta facendo perdere il 1.600.000 euro, invece di fare pulizia nella gestione del personale, a partire dagli ausiliari aspedalieri, a partire dalle vicende dei dirigenti di distretto nominati con criteri politici e non di merito, ha ritenuto opportuno, qui ho la delibera, di sprecare un bel po' di soldi dell'azienda sanitaria per querelare Giuseppe Arnone. Io, come dire, vivo queste querele di coloro che agiscono contro gli interessi della collettività agrigentina e mi querelano anche con orgoglio, e voglio dirlo a Salvatore Moncada, con cui in questo momento siamo concorrenti. Salvare agrigento significa fare le battaglie per la sanità ed esporsi ad un dirigente dell'ASL che ritiene di dare incarichi ad avvocati per querelare Giuseppe Arnone che a suo dire avrebbe arrecato un danno all'immagine dell'azienda sanitaria agrigentina. Gli abbiamo già dato un acconto di 1.248 euro per querelare Arnone e altri soldi Olivieri vorrebbe spendere nei prossimi mesi sempre per queste ragioni. Concludo con una battuta. Lui ritiene di chiedere a Giuseppe Arnone un danno d'immagine per l'ASL. Io invece chiederò a Massimo Russo di citare in giudizio Olivieri perché credo proprio che il danno all'immagine e all'efficienza dell'azienda sanitaria agrigentina lo abbia creato questo signor Olivieri, con le cose che ho appena detto e ampiamente commentato anche in occasioni precedenti.